Appuntamento con il Comune di Sarno e chiaramente con il Sindaco di Sarno. Sindaco, tutto bene? Il freddo come va? Il freddo riaccende qualche piccolo vecchio malanno, per cui di tanto in tanto dobbiamo un attimo fermarci per un check-up sanitario, c'è un po' di risentimento lombo-sciatalgico che mi sta dando fastidio da un po' di giorni, però siamo qui al lavoro fino a quando riusciamo ancora a sopportare il dolore e a camminare, per cui non ci fermano le sciatiche, mettiamola così. Non fa uso di analgesico, no? No, altro che, sto facendo una terapia medica anche sul consiglio di carissimi amici ortopedici, quindi sto facendo una terapia per sopportare il dolore fino a quando iniziamo poi un po' di terapia, di fisioterapia. Auguro innanzitutto per la lombo-sciatalgica, adesso veniamo alla discussione dei fatti e della politica. L'altro giorno un appuntamento importante in prefettura. I sindaci dell'Agro hanno incontrato il prefetto che ha voluto avere notizie sulla sicurezza. Che cosa si è detto, cosa lei ha chiesto al prefetto? Sì, insomma è stato convocato il tavolo in prefettura sulla sicurezza e sul controllo per il comune di Sarno, delegato l'assessore Salvato, in quanto io ero impegnato a Bari con l'associazione UNESCO Patrimonio dell'Italia Meridionale. Temi che il prefetto ha riaffrontato, nel senso che sono i temi che stanno a cuore a tutti i sindaci della provincia di Salerno, in particolar modo a quelli dell'Agro Sarnese e Nocerino, sono la sicurezza, il controllo, la videosorveglianza. I reati contro l'ambiente perché qualche giorno fa, in seguito all'ennesimo sversamento di rifiuti particolari, di rifiuti purtroppo pericolosi, fatti da un criminale in zona Torregatto, io ho inviato una lettera al prefetto, una lettera a questore. Credo che noi dobbiamo intensificare necessariamente la lotta contro chi abusa, sversando non soltanto occasionalmente i rifiuti lungo le strade, lungo zone più o meno lontane dalla grande circolazione, ma soprattutto stare attenti a chi in maniera veramente criminosa che abbandona premeditatamente, non solo il sacchetto selvaggio, ma tonnellate di rifiuti che hanno un codice, codici particolari e che devono essere smaltiti da industrie particolari. Quindi sono reati veramente molto gravi. Abbiamo posto l'accento soprattutto sulla sicurezza fuori le scuole per evitare che anche le zone contigue alle scuole di ogni ordine grado possano essere terra di contrabbando e terra di conquisto da parte di spacciatori, quindi lo spaccio di droghe e quindi una massima attenzione sulle scuole e quindi anche in questo caso potenziare la videosorveglianza. Noi per quanto riguarda la città di Sarno, noi alle nostre 35 telecamere abbiamo assommato altre 30 telecamere, per cui diciamo che alla fine con 60 telecamere abbiamo un territorio controllato in maniera soddisfacente e in maniera abbastanza sufficiente. L'ipotesi portata avanti dal prefetto è stata quella, e credo che sia un'ipotesi e delle considerazioni pertinenti molto 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 concrete e molto molto serie, di questo ringrazio il prefetto che è uomo paragmatico, di allestire lungo le arterie provinciali di maggiore scordimento un sistema di telecamere e quindi di videosorveglianza. Cioè stiamo immaginando lungo quasi tutta la provincia di Salerno e soprattutto alle entrate e alle uscite delle città più importanti o di tutte le città dell'Agro Sarnese e Nocerino e della provincia di Salerno un sistema di videosorveglianza che ci permetta, non soltanto localmente ma anche centralmente in questura o presso i comandi dei commissariati e dei carabini e delle stazioni di carabinieri, un monitoraggio continuo di tutto ciò che è il traffico locale, il traffico nell'Agro, nella provincia per controllare dettagliatamente tutto ciò che entra e che esce in determinate ore della giornata. Questo sul fronte della videosorveglianza è logico che noi sappiamo bene che i sistemi tecnologici ci aiutano però vorremmo anche che da parte del governo quelle promesse che sono state fatte riguardo ai 60-80 mila uomini che dovrebbero rinforzare non soltanto le forze dell'ordine, beh vorremmo che questi uomini effettivamente dalle idee diventassero effettivamente quell'esercito importante per andare finalmente a rinforzare gli organici dei carabinieri e del commissariato. Quindi avete fatto una richiesta specifica per aumentare il personale qui a Sarno della polizia, commissariato di PS e dei carabinieri. Ma per la verità non soltanto a Sarno insomma. Questo sappiamo che tutti i sindaci hanno fatto richiesta. I sindaci sono stati in linea nel chiedere un aumento degli organici delle forze dell'ordine ma è imprescindibile se noi aumentiamo il sistema di videosorveglianza io credo che di pari passo debba essere necessariamente anche aumentato la presenza di uomini delle forze dell'ordine. E poi soprattutto l'accento è stato messo anche sul controllo soprattutto durante le ore notturne perché credo che la maggior parte dei reati avvengono nel momento crepuscolare o all'alba e l'aumento dell'organico è direttamente proporzionale all'aumento dei controlli negli orari notturni altrimenti riesce veramente difficile controllare una distesa in chilometri quadrati enorme per cui gli uomini sono indispensabili soprattutto in alcune fasce orarie. Ti faccio un esempio semplicissimo. Noi abbiamo potenziato tutto il sistema di videosorveglianza con un sistema estremamente moderno e estremamente tecnologico con una lettura di targhe. Sul varco sarnostriano sono stati censiti nell'arco di 12 ore circa 17.000 veicoli. Cioè sono 17.000 veicoli. Ci sono stati punte fino a 17.000 veicoli. Per cui entrate e uscite molte volte sono anche gli stessi veicoli, è chiaro. Però 17.000 veicoli ci dà il preciso numero giornaliero ma settimanale e mensile del traffico che c'è tra l'uscita autostradale di Sarno e la città di Sarno. Lei ha parlato del barco sarnostriano. Vogliamo parlare anche della strada che collega Sarno a Palma Campania dove qualche giorno fa c'è stato purtroppo un morto, una persona anziana che forse andava a velocità sostenuta, non lo so, ma comunque ci ha lasciato la pelle in un incidente si è capovolto e purtroppo ha perso la vita. E' una strada pericolosa, mancano marciapiedi su un lato e in più c'è una velocità troppo sostenuta da parte di veicoli e autocarri. Allora sulla strada via Sarno a Palma, ma ancora prima dell'incidente mortale che c'è stato dove la dinamica è ancora per la verità poco chiara, probabilmente anche la velocità o forse anche un malore accidentale che ha colpito il signore automobilista, restano ancora delle perplessità sulle dinamiche. Ma indipendentemente da questo io ho fatto già una richiesta alla provincia di Sarno di provvedere perlomeno su un lato alla pavimentazione e alla realizzazione di un marciapiede. Quindi questa richiesta è già stata fatta. Nel caso che la provincia di Salerno non rispondesse a questa esigenza provvederemo noi come comune. Da parte invece della Polizia Municipale vi dico che sulla strada via Sarno a Palma proprio perché ci sono state molte segnalazioni di superamento dei limiti della velocità perché i limiti sono intorno ai 50 km orari e poiché ci giungono spesso segnalazioni di superamento di questo limite circa una volta ogni 15 giorni probabilmente potremo anche incrementare dopo con un miglioramento delle condizioni atmosferiche la Polizia Municipale ha già allestito il più delle volte un sistema di autovelox vuol dire che incrementeremo il controllo con gli autovelox e puniremo tutti coloro che superano in maniera piratesca i 50 km orari. Sono già diversi i verbali che sono stati spiccati dalla Polizia Municipale. Aumenteremo il controllo sulla strada. Lei ha parlato di videosorveglianza e ha anche detto delle difficoltà di controllare un territorio molto vasto eppure bisognerebbe controllare zone dove delinquenti perché io li definisco tali vanno a sversare di tutto e di più. Parlo della zona di Foce al ridosso della cava di una cava di cui noi abbiamo fatto un servizio con materiale di ogni genere e non ultimo un altro luogo nel pressi del Boscone dove addirittura ci sono delle ecoballe che sono una vergogna. E mi riferisco proprio a quest'ultimo reato. Ti dico però che il maresciallo dei carabinieri, l'amico Tony Vitale con il quale ci siamo proprio incontrati qualche giorno fa su queste due situazioni sia la cava di via Muro d'Arce e sia la zona di Torregatto dove ci sono stati questi due sversamenti di prodotti industriali perché nella cava di Foce sono residui, tessini di lavoratori nero. Insomma qua è talmente chiaro altrimenti non si spiega. Per cui abbiamo dato delle indicazioni al maresciallo Vitale che tra l'altro lo ringrazio di cuore insieme al commissario la dottoressa Morriconi che vedo molto 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 sensibili e attivi su questi argomenti. Ci siamo anche interfacciati giorni fa con il nostro consulente tecnologico sulla videosorveglianza e ti dico che stiamo insieme sempre al maresciallo Vitale. Insomma è partita una bella indagine e quindi spero di cuore che a breve sapremo anche i colpevoli di queste nefandezze. Posso farle una battuta? Ma lei che cosa fa la notte? Invece di stare a casa se ne va in giro per gli uffici a mandare mail per chiedere aiuto? Poi vorremmo capire aiuto di che genere ci faccia sapere se è possibile noi ne staremo vicini. Giorni fa proprio mentre andavo a Bari l'altro ieri, mentre andavo a Bari per questa conferenza stampa e quindi anche il rilancio dell'associazione Unesco Patrimonio del Sud. C'era a Bari una conferenza con il presidente della provincia di Barletta, Andria, c'era il presidente della provincia di Matera, c'era l'associazione Il Battello, c'era la provincia di Salerno, io sono stato delegato dal presidente Michele Strianese, non fosse altro per continuità su questa progettualità. Quando qualche amico durante il percorso mi chiama per dirmi ma mi hai mandato una mail chiedendomi aiuto alle due di stanotte, ma io, parafrasando l'attore Calone, Calone, cado dalle nubi, Zalone cado dalle nubi, per cui guarda io non ho mandato nessuno, non so assolutamente nulla, c'è stata sempre una falsa mail partita da un falso ufficio del gabinetto del sindaco arrivata a tantissimi amici che in parte si sono preoccupati ma quasi tutti avevano capito che era un falso. Ci sono tanti buontemponi con il digitale, con i sistemi Facebook e tutte queste diavolerie poiché hanno tanto tempo da perdere, perché c'è tanto tempo da perdere, beh insomma hanno pensato bene di mandare una mail a nome mio, a nome Giuseppe, perché c'è soltanto il nome Giuseppe, quindi non c'è il cognome, a nome mio, a tantissimi miei amici chiedendo aiuto, chiedendo aiuto perché non stavo bene. Siamo in campagna elettorale, quindi succede di tutto e di più, vero? Sì, sì, penso che il motivo fondamentale sia che stiamo in campagna elettorale, una campagna elettorale permanente perché in Italia si è sempre in campagna elettorale, c'è sempre un buon motivo per essere in campagna elettorale, mi chiedo a volte potremmo evitarci qualche campagna elettorale in più risolvendo qualche problema in più. Bisognerebbe dimenticare per un attimo la campagna elettorale, pensare di più alla solidarietà, così come lei ha fatto nei confronti della città di Amatrice, che purtroppo sta soffrendo ancora, e Sarno credo che capisca i problemi di Amatrice, perché di problemi li ha vissuti, non solo nell'80, ma anche nel 98. Certo, altro che insomma, noi direttamente per quello che abbiamo sofferto il 5 maggio del 98 non siamo soltanto sensibili, siamo estremamente vicini a tutti coloro, a tutte le popolazioni, a tutte le comunità che si ritrovano in situazioni catastrofiche simili o addirittura peggiori a quelle del 5 maggio del 98. Tra l'altro giorni fa ci siamo sentiti con il sindaco di San Giuliano, ricorderai il crollo dell'edificio scolastico, anche in quell'occasione Sarno fu presente, ci siamo sentiti perché insieme abbiamo costruito e stiamo portando avanti il discorso sul risarcimento delle vittime. Per quanto riguarda Sarno, il post frana 5 maggio del 98, per quanto riguarda San Giuliano, purtroppo quel crollo di quell'edificio scolastico che fece danni e vittime. Quindi c'è anche un proseguo politico, tra virgolette, estremamente positivo perché entrambi abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per quel fondo di risarcimento danni. Parliamo di qualcosa di bello. Lasciamo stare per un attimo i dolori e i dispiaceri che purtroppo vengono arregati dalle sventure, dalle sciagure che purtroppo noi viviamo quasi quotidianamente. Felice Squitieri, lei ha avuto il piacere finalmente di aprire il teatro. Era una cosa della quale io le parlavo in continuazione, le ponevo la domanda quando, quando, quando. Adesso ci siamo. Senza fare riferimento alle prossime rappresentazioni teatrali. Quanta gioia prova nel vedere il teatro aperto. Io provo una gioia enorme, una gioia enorme. Tu pensavi al teatro Denise, però hai detto il Felice Squitieri che è lo stadio. No, no, dello Stato parliamo solo per le università. Ma non ti sei sbagliato perché hai pensato alle due, hai pensato allo sport e hai pensato al teatro. Per cui sono due momenti estremamente importanti perché sia il teatro, io credo che ci sia stato scritto un bellissimo articolo dall'amico Nicola Laudisio che ricostruisce non soltanto amministrativamente, purtroppo non lo so come definirli, questa storia infinita che parte negli anni 90 e che si conclude nel 2019. Quindi una storia amministrativa lunga, travagliata, chi ha visto tante amministrazioni e soprattutto Prim, Seconda e Terza Repubblica. Quindi come dire, veramente una storia infinita. Però credo che sia anche merito di questa amministrazione, senza togliere meriti a nessuno, perché portare a termine un appalto pubblico in Italia è come arrivare su una stella, per cui è difficilissimo. Però io credo che grazie non soltanto a questa amministrazione, ma soprattutto grazie anche al lavoro degli amici assessori, penso a Lì a Esposito, penso a Michele Ruggiero. Insomma, alla fine quel cantiere che avevamo ereditato dalla passata amministrazione, perché era un cantiere, era ancora nelle mani della ditta Figo, e quindi il primo passaggio era necessariamente riappropriarsi di un cantiere, trasformarlo in teatro e quell'immobile proprietà passarla al comune. E se non ci fossero stati i danni vandalici ad opera degli stessi pirati che sversano, ad opera degli stessi pirati che sversano come idea concettuale, come danno, non sono le stesse persone, non è così. Sono accomunati da una sola cosa, sono delinquenti. Sono delinquenti, sono accomunati semplicemente dalla delinquenza e dallo spregio verso la specie umana, ecco, verso gli uomini. Se non fosse stato per quei danni vandalici, probabilmente, anzi sicuramente, il teatro dell'Ise lo avremmo inaugurato a fine 2017, inizio 2018. Beh, insomma, ci hanno purtroppo tolto un anno, abbiamo dovuto impegnare altri fondi per circa 500 mila euro, un altro anno di lavoro, però, insomma, alla fine una gioia immensa inaugurare il teatro, questo bellissimo teatro unico, unico in Campania, un teatro nuovo, un teatro che ha tutti i requisiti sulla sicurezza, sull'agibilità, sull'antincendio, voglio dire, un teatro a norma, ecco, a norma, e penso che una struttura del genere sia unica, unica sul serio, un teatro molto bello, un teatro che non soltanto richiama i temi classici del nostro corso principale, del nostro corso Giovanni Amendola, ma che è un gioiello anche architettonico. Io dico sempre, c'è sempre a chi piace e a chi non piace, va bene, ma io credo che un contenitore, poi siamo noi che dobbiamo dargli un'anima, perché un contenitore, se non ha un'anima, siamo noi uomini, noi che dobbiamo riempirlo di contenuti. A questo proposito dico sempre che quando fu realizzata la Tour Eiffel, anche con la Tour Eiffel, ma anche con la piramide all'interno del Museo di Louvre, si sono sempre scatenati critici, critici d'arte, architetti intellettuali, si sono sempre scatenati sull'adeguatezza, sull'inadeguatezza, è giusto in una struttura classica installare una struttura moderna. Io credo che sia giustissimo, perché se noi ci comportiamo come geologi, o come archeologi, e andiamo a vedere la stratificazione della nostra terra, della nostra patria, ogni metro di terreno che scaviamo ha una sua storia. Per cui se c'è una stratificazione storica naturale, non vedo perché non ci può essere una stratificazione architettonica naturale. Per cui io credo che sia giusto che sia così. All'epoca la Tour Eiffel fu contestata e poi nacque quel grande movimento che furono gli impressionisti. Anche gli impressionisti furono criticati. Nello stesso anno in cui realizzarono la Tour Eiffel, e per la mostra internazionale fu inaugurato questo monumento in acciaio, lì c'era la prima esposizione degli impressionisti, fino a quell'epoca sai bene che le rappresentazioni dovevano essere necessariamente sacre. Cioè gli impressionisti rompono con la tradizione e si inventano rappresentazioni che non sono esclusivamente sacre, ma che ritraggono momenti estremamente naturali, di vita contestuale. E rompono la tradizione, ebbero un successo clamoroso. E oggi noi ammiriamo quei quadri in maniera estasiati. Sindaco, tre momenti nella sua vita amministrativa hanno segnato dei periodi. Abbiamo parlato del teatro, la scuola di Amicis. La scuola di Amicis, da un punto di vista amministrativo, è chiuso l'iter. Cioè credo che lo studio di architetti che ha vinto la gara, proposta presso la stazione appaltante di Bellizzi, se non mi sbaglio, credo che stiamo in attesa semplicemente della documentazione, i vari certificati compreso quello antimafia, se facciamo dei certificati facciamo mattina. Siamo semplicemente in attesa dei vari attestati per sottoscrivere il contratto per il progetto esecutivo. Non c'è stato letteralmente tempo, perché abbiamo tanti di quei cantieri, tanti di quei lavori in atto, o che si sono avviati, per cui veramente, insomma, stiamo per sottoscrivere il contratto per la pubblica illuminazione, cioè 3.800 punti luci in tutta Sarno, rifacciamo tutta Sarno, tutta Sarno, e credo che in questo momento ci stiamo muovendo per priorità, credo che la pubblica illuminazione sia veramente una cosa molto, 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 molto sentita. San Matteo è stata illuminata da me nel 2000, per cui tutti i punti lì, tutti i 3.500, 700 punti luci, dovranno essere tutti quanti rifatti a LED, per cui tutti quanti saranno rifatti. Ha un'idea per il futuro di quel luogo che è meraviglioso, San Matteo? San Matteo, allora, c'è un'idea molto precisa che dobbiamo portare avanti da adesso, nella prossima consigliatura, perché a San Matteo, dove c'è il Convento San Domenico, e dove tra poco dovremo fare anche un bellissimo lavoro per far capire che il Convento San Domenico era uno dei palazzi federiciani, dove Federico di Svevia, dove Federico, il grande Federico, veniva a soggiornare. Quindi c'è tutto un lavoro storico che dobbiamo riesumare, che dobbiamo portare all'attenzione. Ma dico, Convento San Domenico diventerà, nella fondazione che stiamo costruendo, diventerà una foresteria per giovani, è già sede del MUDIF, del Museo della Fotografia, dell'archivio e del restauro, ma tutte le stanze del Convento diventeranno una foresteria per giovani. Perché? Perché Borgo San Matteo, nella mia precisa idea, non soltanto va recuperato, ma deve diventare, come questa è l'idea, attraverso i distretti turistici, attraverso i distretti turistici, che già esistono, che già esistono, dovrà diventare una, una, dei piccoli bed breakfast, dove, insieme alla foresteria di Convento Santo Domenico, dovrà fare accoglienza. Posso esprimere una mia idea? Io vedo San Matteo venendo da Pagani, immagino San Matteo con le case colorate, color pastello, così come stanno a Londra, a Portobello, tutte case colorate con tanti piccoli, insomma, negozietti particolari, momenti di accoglienza, di intrattenimento, deve diventare un borgo turistico. Gli attori, li abbiamo, ora ci sono gli attori che devono, come dire, quadiuvare l'ente locale, il comune, in questa avventura. perché nel distretto turistico ci sono imprenditori, ci sono albergatori, ci sono negozianti, ci sono commerciali, cioè ci sono persone competenti con le quali dobbiamo necessariamente, necessariamente, colloquiare, necessariamente colloquiare per fare quello di cui stiamo parlando. Allora, in ultima, ma non ultimo per importanza, non vale soltanto per San Matteo. San Matteo è particolare, sindaco. San Matteo è estremamente particolare, ma non vale soltanto per San Matteo, ma vale anche per tutto il centro antico, storico della città di Sarno. Noi abbiamo, tu sai bene che il PUA tecnologico è stato deliberato e quindi esiste il PUA tecnologico. Abbiamo affidato il PUA archeologico, il prossimo PUA che affideremo è il PUA del centro storico, per la riqualificazione di queste zone. Sarà un punto di riferimento per la prossima amministrazione, per la sua prossima amministrazione? Ma necessariamente, noi abbiamo deliberato il PUC, il piano urbanistico comunale, perché rappresenta la Bibbia, rappresenta il Vangelo, cioè senza il piano urbanistico comunale, è come parlare in italiano, senza la grammatica e senza la sintassi. Con il piano urbanistico comunale abbiamo gli strumenti necessari e indispensabili per programmare e per ricostruire la nostra città. Il Lapsus Freudiano commesso da me, nominando il Felice Squitieri e parlando poi del Teatro dell'Isa, mi porta a dire ma per il Felice Squitieri ci siamo, ci sono le università, i lavori quando cominceranno? Oggi. Addirittura. Oggi iniziavano i lavori, in 90 giorni devono consegnarci i lavori, oggi iniziavano i lavori, quindi è già un cantiere, inizia il cantiere, inizieranno a realizzare gli spogliatoi sotto la tribuna, voglio ricordare ai nostri concittadini che lo stadio Felice Squitieri è stato già oggetto di lavori, nel senso che abbiamo costruito la copertura della tribuna in materiale ligno e abbiamo rifatto gli spalti, cioè realizzando una bellissima tribuna con tantissime poltroncine colorate. Quindi questo lavoro, questa struttura c'è stata riconosciuta dalle universiadi per essere un campo adeguatamente funzionale per le universiadi, per cui abbiamo avuto dalle universiadi circa 500 mila euro per rifare il manto erboso e per la realizzazione sempre in erba sintetica per rifare gli spogliatoi, quindi faremo gli spogliatoi sotto la tribuna e riqualificheremo i vecchi spogliatoi e tra l'altro probabilmente riusciremo anche a rifare tutte le colonne per l'illuminazione del campo sportivo. Ma non è finita qua, perché noi abbiamo firmato una convenzione con il dottor Malagodi, il presidente del CONI, anche per la riqualificazione della Medea Viscardi a lavorate. Quindi anche i lavori da parte del CONI dovrebbero iniziare a momenti per la riqualificazione della Medea Viscardi. Sono circa un milione e mezzo di euro, sono 960 mila euro sulla Medea Viscardi e 517 mila euro sul Felice Squitieri. Senta Sede, quali sport se ci saranno finali, semifinali qui nella sua città durante le universiadi? Se lo ricorda per l'amore di me? No, no, io credo che in questo momento le universiadi ci vedranno come coprotagonisti nel senso che molti allenamenti verranno effettuati nel nostro stadio. A meno che poi, insomma, all'ultimo, o meglio, rivedendo tutta l'organizzazione non si decida di disputare anche qualche partita importante nel nostro stadio. Adesso ritorniamo all'amministrazione. Io ho letto che voi non solo non avete aumentato le bollette dell'Atari e anche dell'Imu. Anzi, ma voi avete ridotto. Come avete fatto? Beh, io dico che questo è un merito veramente dell'assessore ai tributi dell'Avvocato Chetano Ferrentino. Beh, insomma, intanto abbiamo aumentato la differenziata perché è chiaro che se tu aumenti la differenziata e passiamo dal 35-40% relativamente al 2014 e oggi passiamo all'83% e siamo premiati dall'Osservatorio Campano come uno dei primi comuni tra i 20-30.000 abitanti per differenziata beh, questo è un merito sicuramente dei nostri concittadini che hanno capito che hanno capito bene come si fa la differenziata e soprattutto i risvolti positivi. Perché? Perché se tu aumenti la differenziata e la fai bene vuol dire che vai a conferire più materiale che puoi riciclare mentre il conferimento dell'umido e dell'indifferenziata chiaramente soprattutto quello dell'indifferenziata diminuisce e poi altro merito di questa amministrazione è che dopo dieci anni nel 2016 se non ricordo male noi abbiamo inaugurato l'isola ecologica avere l'isola ecologica e aumentare e aumentare qualitativamente la differenziata beh, significa innanzitutto effettivamente poter rivedere al ribasso non soltanto la Tari ma anche Noi abbiamo abbassato la Tari e il Limo di circa la Tari di circa il 30-35 in alcuni momenti in alcune fasce anche del 40-50% cioè una superficie poi dobbiamo anche aggiungere che abbiamo anche rinfrancato i nostri concittadini perché a differenza di quello che succedeva con l'amministrazione precedente anche le pertinenze le facevano pagare al 100% come il calpestio la superficie interna di un'abitazione noi abbiamo ridotto anche le superfici condominali diciamo condominali di pertinenza del 50% un tempo pagavano il 100% i nostri concittadini pagavano il 100% come la superficie calpestabile dell'appartamento quindi abbiamo ridotto non soltanto l'Imu per quanto riguarda la superficie calpestabile ma abbiamo ridotto l'Imu anche per quanto riguarda le pertinenze vale a dire garage trombe di scale e altre pertinenze beh io credo che questa sia uno dei pochi comuni uno dei pochi comuni che abbia un golden global come dire insomma perché a differenza di tutti gli altri comuni dell'agro sarnese e nocerino dove si sono rivisitate le tariffe all'aumento questo è uno dei pochi comuni dove le tariffe le abbiamo riviste però al ribasso così come abbiamo visto al ribasso la COSAP così come abbiamo visto al ribasso la tassa sull'occupazione del suolo pubblico perché anche da questo punto di vista proprio per incentivare i negozianti per incentivare il commercio abbiamo rivisto al ribasso anche queste tasse è chiaro che la Tari e l'Imu anche per un negoziante anche per un proprietario ma soprattutto per un commerciante abbassare la Tari significa tantissimo voi non avete preoccupazione in merito all'aumento che chiederà Ecoambiente abbiamo già calcolato quanto potrebbe essere la differenza per il nostro comune è intorno ai 400 mila euro che significa semplicemente una ripartizione di pochi centesimi per il nucleo familiare insomma beati voi perché in altre città ci sono dolenti note in altre città ci sono dolenti note perché molte città hanno debiti 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 ancestrali debiti antichi lei lo sa bene ebbè io lo so bene perché come dire insomma da presidente della provincia ho sempre con attenzione attenzione visionato i debiti i debiti i debiti di tanti comuni mi rendo conto che non è che non è semplice per nessuno mi rendo conto che è difficilissimo mi rendo conto che la crisi economica è lungi dall'essere superata che purtroppo la povertà è una realtà mi rendo conto che i comuni non possono non possono reggere da soli mi rendo conto che alcune leggi sono letteralmente una iattura cioè quando quando si chiede ai comuni di finanziare i propri servizi attraverso le tasse senza avere un riscontro economico dal governo centrale io dal governo centrale mi rendo conto che effettivamente si sta chiedendo ai comuni di impiccarsi al palo più alto né più nemmeno io credo che invece i comuni che sono come dire il termometro territoriale il termometro territoriale e i sindaci sono i pretoriani di questo territorio indipendentemente dal colore politico perché io ascrivo ai sindaci una un coraggio un coraggio perché già già candidarsi oggi oggi ci vuole ci vuole coraggio nel senso nel senso che chiunque dotato di un minimo di buon senso chiunque dotato di un minimo di buon senso vista l'aria che tira anche parafrasando una famosa una famosa trasmissione una famosa trasmissione televisiva ci si dovrebbe pensare e si dovrebbe fare anche un esame neuropsichiatrico con attenzione fare un questionario non esageri beh ma insomma bisogna essere anche un po' pazzi per fare questa per avviarsi in questa avventura nella sua gestione amministrativa lei ha intessuto rapporti di amicizia di collaborazione con moltissimi enti fra questi il consorzio di bonifica che sta operando sul territorio beh adesso se ne vede la presenza di questo dobbiamo dare atto a lei perché ha scelto o ha indicato chi doveva gestire un passaggio commissariale di quell'ente beh sì un passaggio commissariale anche difficile insomma soprattutto tenendo conto della situazione economica in cui in cui versano un po' i consorsi in generale ma soprattutto il nostro beh io devo dire che l'amico Rosario D'Angelo io non scelgo non ho scelto semmai io ho a massimo ho dato un'indicazione un'indicazione conoscendo la professionalità l'umanità e la sensibilità dell'amico Rosario D'Angelo e sapendo bene anche il valore professionale lo sta dimostrando lo ha dimostrato e lo dimostra tutti i giorni con gli oltre 80 comuni del consorzio di bonifica dell'agro sarnese nocerino e soprattutto lo dimostra quotidianamente con i suoi operai che lavora su tutto su un territorio enorme su un territorio vasto e lo dimostra anche potenziando il patrimonio tecnologico dell'ente con l'acquisto di macchinari che sono che sono come dire fondamentali per svolgere per svolgere lavori di pulizia di arginamento di di rimozione di tantissimo di tantissimo materiale che lo troviamo lungo il fiume lo troviamo sulle sponde lo troviamo nei canali consortili lo troviamo in tutte le campagne stanno addirittura per acquistare una rete una rete particolare una rete particolare per raccogliere la plastica per raccogliere la plastica che sempre sempre determinati in civili che sempre determinati in civili sversano nel fiume per raccoglierla e per riutilizzarla tra l'altro è una struttura che costa meno di 40.000 euro e che è stata inventata tra l'altro da ingegneri italiani che l'hanno sperimentata per primi sui fiumi sui grandi fiumi dell'America dell'America del nord e dell'Asia quindi con buoni risultati però voglio voglio anche soffermarmi su tutta la parte su tutta la parte consortile che riguarda poi anche la progettazione di lavori perché grazie al Rosario insomma anche il Comune di Sano così come tanti altri comuni sta in sinergia con protocolli di intesa comune comune consorzio anche attivando dei progetti che possono essere finanziati direttamente attraverso la regione campagna Sarno sta diventando un centro di cultura in quanto ha creato dei momenti altamente culturali con incontri con scrittori insomma persone di elevato pregio culturale non ultimo Sarno sta acquisendo qualcosa di molto particolare Domenico Rea gli eredi della famiglia Rea la signora Lucia ha determinato cosa? Ma nell'ambito di settembre Libri che oramai è come dire un appuntamento annuale che si ripete oramai da quattro anni e grazie all'assessore Enzo Salerno il nostro assessore alla cultura alla pubblica istruzione beh insomma grazie a lui non soltanto abbiamo come dire realizzato con l'amicizia del sindaco di Ancri l'amico Cosimo Ferraioli che ci ha gentilmente offerto la mostra una luce per Sarno quindi noi ci avviamo a realizzare il museo civico ci avviamo a realizzare il museo civico già realizzato per la verità ci avviamo a inaugurare il caffè letterario ma il caffè letterario di una villa bellissima che abbiamo aperto al pubblico e che diventerà come dire il salotto buono della città di Sarno e beh insomma in questa cornice ecco di contenitori ma di contenitori di pregio artistico e di pregio architettonico beh abbiamo organizzato Settembre Libri e l'ultimo Settembre Libri che ha visto anche una partecipazione della signora Lucia Rea la figliola dello scrittore Domenico Rea insomma Domenico Rea scrittore pubblicista giornalista insomma non è soltanto uno scrittore Domenico Rea insomma e e e e tante cose insomma cioè tanti lavori intellettuali un uomo eclettico perfetto un uomo un uomo eclettico insomma un intellettuale popolare un intellettuale popolare insomma ricordo il romanzo Ninfa Plebea uno dei più bei romanzi che abbia mai letto ma insomma questa questa sua vocazione popolare insomma in Ninfa Plebea è come dire è un manifesto è un manifesto è un manifesto per cui ci ha voluto donare tutto l'archivio del del papà e l'ha voluto donare alla nostra alla nostra città e questo insomma ci fa tantissimo tantissimo onore noi abbiamo pubblicato anche grazie poi all'ausilio di nostri imprenditori Re Pomodoro uno scritto di Domenico Rea uno scritto molto molto simpatico non soltanto quello poi anche uno scritto sui matrimoni che danno che danno con 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 determinazione con un'estrema con un'estrema incisività il carattere di determinati di determinati stori il carattere di determinati personaggi di determinati contesti per cui sono sono molto sono molto belli da da leggere per cui questo grazie a tantissimi amici tra cui anche Edoardo Ruggiero Dani Copp Re Pomodoro insomma è stata una cosa sponsorizzata anche da Dani Copp da Edoardo Ruggiero dalla famiglia Ruggiero quindi siamo siamo estremamente onorati estremamente felici di ospitare della nostra città l'archivio di Domenico Rea seguirà anche all'archivio seguirà anche una collezione una grande collezione di fotografie per cui stiamo già stiamo già pensando di allestire una mostra fotografica su Domenico Rea insieme al Mutif agli amici Petrosino e io veramente mi sento di ringraziare tantissimo la signora Lucia Rea per questo per questo gesto di grande generosità che ha voluto avere nei nostri confronti è chiaro che questo archivio con l'archivio abbiamo dato daremo daremo inizio a un centro a studi dedicato a Domenico Rea ma dedicato anche a tanti altri scrittori meridionali e a tanti altri scrittori campani credo che sia giusto in questo momento tra l'altro Napoli e la Campania vivono un momento di grande felicità narrativa perché se pensiamo che quattro narratori napoletani vengono tradotti in tutto il mondo insomma questo ci deve questo è un grande onore parlare di cultura poi mi porta a parlare della zona archeologica di Sarno voi avete una zona meravigliosa che è Foce e nei cui pressi c'è un teatro però mi faccia lamentare un poco questo teatro deve essere aperto deve essere ripulito deve diventare un centro di aggregazione anche questo non è abbiamo aperto il teatro il felice squidiere lo abbiamo sicuramente rimodellato rimodernato la villa di cui parlavamo prima l'abbiamo messa a nuovo ma dimentichiamo la storia la storia vera la storia dell'antichità no no io non dimentico niente tant'è che io la voglio stuzzicare stamattina no io non dimentico niente perché tant'è che Parco Cinque Sensi nel 2000-2001 io l'ho voluto con forza io cioè io ed è un luogo meraviglioso gestito governato curato da quelle persone che sono di un garbo unico quindi quella iniziativa partì con me così come è partita con me anche l'iniziativa di ampliare lo spazio e infatti abbiamo acquistato una buona parte del lungo fiume anzi un ottimo appezzamento di terreno in previsione poiché abbiamo come dire adottato il PUA abbiamo assegnato il PUA archeologico c'è tutta la volontà da parte dell'amministrazione comunale a riqualificare alla grande non la frazione di Foce no il quartiere Foce il quartiere naturalistico Foce c'è grande intenzione a voler riqualificare perché il PUA archeologico dove lo potevamo fare se non a Foce per cui per cui proprio la volontà di riqualificare tutta tutta la 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 zona archeologica di Foce con l'acquisto del 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 dell'appezzamento di terreno noi andremo a ripulire intanto tutta la zona quindi ridaremo ridaremo slancio al fiume sia a destra che a sinistra e con un progetto di finanza vogliamo valorizzare così come abbiamo valorizzato il Parco Cinque Sensi vogliamo valorizzare l'acquisizione del terreno che c'è stata da parte del comune sulla zona archeologica cioè mi riferisco mi riferisco al teatro l'anfiteatro sul puo archeologico lavoreremo per una destinazione fruttuosa però io voglio sempre ricordare che dice un protocollo d'intesa tra noi e il museo archeologico perché non è proprietà del comune è proprietà del museo archeologico voglio ricordare che questa amministrazione ha fatto sì che anche il museo archeologico avesse un progetto e dei fondi per circa un milione e mezzo per concludere per ristrutturare l'ultimo piano del museo e per dare ancora più spazio al museo stesso ritorniamo puo archeologico cioè qua c'è bisogno di una visione della città come tu giustamente dicevi prima puo archeologico distretti turistici museo archeologico noi abbiamo ora tutti i contenitori li abbiamo di nuovo come dire lanciati dobbiamo semplicemente fare un'operazione di messa al mosaico di funzionalità produttiva di tutti i contenitori questi cinque anni da una parte abbiamo sanato da una parte abbiamo realizzato da una parte abbiamo programmato e adesso bisogna pubblicizzare bisogna pubblicizzare entrare nei circuiti adesso bisogna effettivamente un po' dare molto più spazio alla comunicazione di quando non abbiamo fatto fino adesso perché abbiamo fatto una comunicazione ma bisogna adesso veramente do come dire un anticipo di quello che sarà Sarno Sarno noi abbiamo parlato di turismo abbiamo parlato di ristorazione abbiamo parlato di enogastronomia danicop abbiamo parlato di musei abbiamo parlato di cosa abbiamo parlato di servizi noi abbiamo parlato di servizi servizi culturati servizi culturali servizi di intrattenimento servizi alla persona servizi ora poiché Sarno ha tutto questo poiché Sarno ha tutto questo Sarno deve essere città capofila di un distretto dei servizi questa è l'ambizione con accordi con le città limitrofe ma volesse il cielo cado dalle nubi di nuovo ma volesse il cielo volesse il cielo di trovare insomma noi viviamo purtroppo un'emergenza quotidiana io mi rendo conto che da noi veramente insomma spendicendo per raccogliere 10 io mi rendo conto che è difficilissimo però se noi troviamo anche nei paesi nelle città vicine con i quali già il piano di zona è come dire un'unione di comuni vabbè quindi veramente basta poco per realizzare quel centro quella Sarno distretto dei servizi insieme a San Marzano a San Valentino a San Pagano a Pagano non ci vuole nulla ci vuole soltanto un convincimento politico e proporre il nostro territorio che è bellissimo ai tanti turisti che arrivano a Pompei e a Pesum sul classando questo territorio noi stiamo stiamo cercando perché dico gli altri comuni perché noi dobbiamo metterci insieme su tre cose poche cose cioè non dobbiamo fare ma quelle poche cose quelle poche cose che ci rendono tutti i territori estremamente percorribili e vivibili se lo facciamo facciamo una tombola che non finisce più abbiamo pochi minuti ancora ospedale di Sarno una polemica è nata non c'era inferiore quando il governatore De Luca non ha mantenuto a dire di alcuni l'impegno del DEA di secondo livello e a Sarno ma per il DEA di secondo livello ci vogliono circa 700.000 abitanti ora io mi rendo conto che come dire probabilmente in passato sono state fatte concessioni inammissibili ma se noi abbiamo come modello quello che ci viene proposto dal governo centrale già sarà difficile conservare 60 unità operative complesse perché ci stanno chiedendo di chiudere 60 unità operative complesse io credo che tutto quello che è stato fatto fino adesso è stato veramente eccezionale ricordiamo come stavamo messi commissariamento al bilancio commissariamento alla sanità cioè se noi non rientravamo in quei 10 parametri stabiliti dal ministero della salute i 10 parametri su ILEA da dove eravamo fuori e se si sta fuori e si è commissariato non puoi fare mobilità non puoi fare concorsi non puoi fare assolutamente nulla cioè il grande miracolo che è stato e in questo io sono d'accordo con il governatore De Luca perché è veramente un miracolo oggi noi siamo di nuovo accreditati noi siamo di nuovo credibili e se possiamo fare i concorsi li possiamo fare grazie soprattutto al fatto che il commissariamento della sanità non c'è più e che i 10 coefficienti i 10 parametri sono stati rispettati allora nel momento in cui si sono rispettati i 10 parametri per ILEA noi siamo di nuovo degnamente rappresentati e rappresentativi per fare mobilità per fare concorsi concorsi non soltanto per infermieri concorsi per medici concorsi per primari aumentare aumentare la tecnologia io devo anche fare un plauso al commissario straordinario perché il dottore di Ervolino sta cercando anche rapidamente di colmare quei vuoti del personale sanitario già sono arrivati diversi medici presso l'ospedale di Sard tra poco arriveranno 4 medici specialisti 3 andranno in medicina e 1 andrà al pronto soccorso tra febbraio e marzo arriveranno fortunatamente da 130 infermieri arriveranno 230 infermieri per cui i prossimi 100 infermieri saranno letteralmente disponibili per Nocera per Sarno e per Scafato io dico che sei ottimista ma sono ottimista perché vedo i fatti cioè allora se poi noi o abbiamo una visione generale o noi o abbiamo una visione generale della sanità ma non possiamo fare un discorso prodromo cioè per me ma non può funzionare così così non funziona la sanità cioè i punti nascita che sono stati chiusi sono stati chiusi dal governo centrale cioè voglio ricordare che tanti presidi ospedali Roccataspide Agropole Scafato erano stati chiusi dalla passata amministrazione li abbiamo riaperti ora è chiaro che riaprire quei nosocopi già è stato difficile se poi teniamo conto che 12.000 operatori sanitari negli ultimi 10 anni sono andati in pensione 12.000 è un esercito e soltanto 5.000 sono stati rimpiazzati ne mancano sempre 7.000 però 5.000 sono stati rimpiazzati io dico che il peggio è passato fortunatamente perché le mobilità i concorsi sono stati avviati e i primi risultati arrivano continua a stuzzicarla lei non ha paura di un salernocentrismo di un nuovo ospedale un nuovo San Leonardo da costruire con i fondi regionali ma io sono felice che si costruisce un altro ospedale ma i fondi vengono detrati da quelli dell'agro ma io faccio un ragionamento semplicissimo il più delle volte andare a mettere mano su una struttura obsoleta costa più che costruire da capo allora se io devo costruire un nuovo ospedale preferisco costruire un nuovo ospedale adeguato al contesto adeguato all'intera provincia cioè ma per mettere su un trasporto velocissimo ma non ci vuole assolutamente nulla non ci vuole assolutamente nulla cioè la linea dell'emergenza sull'infarto e la linea dell'emergenza sull'emorragia o sulla trombosi cerebrale si basa fondamentalmente sulla diagnosi e sulla velocità ma la diagnosi la si fa anche telematicamente la velocità basta un elicottero basta un elicottero e basta un'equipe di medici attrezzati professionalmente per salvare la vita alle persone parliamo d'altro ma lei si candiderà io sono già candidato già candidato annunciamolo allora potrà essere qualcuno io sono già candidato cioè mi sembra superfluo ridire io sono già candidato io sono già candidato sono già in campagna elettorale col partito democratico certamente col partito democratico e con una coalizione di 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 altri di altre liste civiche non ho nessun timore a dire stiamo discutendo anche con altre forze politiche con altre forze politiche che si iscrivono in quella filiera istituzionale provinciale e regionale una domanda che potrebbe quindi voglio dire campagna libera stiamo ragionando con l'UDC per cui non facciamo altro che non ci inventiamo niente cerchiamo soltanto di mettere di rafforzarci nel senso con quelle forze politiche che già alla provincia e alla regione governano il suo è un amore folle per la città o è un folle che ama così tanto la città da volersi candidati entrambe le cose e io le faccio per la fortuna prima di chiudere devo ringraziare l'ha detto stampa il dottore Orza per la collaborazione l'aiuto che ci dà per mettere su questa trasmissione non è piangeria la mia assolutamente ma è doveroso ringraziare chi dietro le quinte dietro la telecamera lavora per consentire di ottenere un buon risultato che spero abbiamo ottenuto anche perché tendiamo di dare informazioni alla cittadinanza facendo parlare i protagonisti e il dottore Canfora è il protagonista in questo momento grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti